Ciao a tutti, sono Gianluca Bocci e oggi vi parlo di questi auricolari della VictiSing. Sono il Bluetooth 4.1, dal design molto colorato e soprattutto sono wet proof, ovvero potete anche sudare, ovviamente non ci potete andare a nuotare in piscina. Il loro utilizzo quindi è sportivo e hanno questa particolarità di questo aggancio. Vi faccio vedere come funziona, si infilano l'orecchio, prendendo ovviamente quella con la lettera giusta, e si ruota all'indietro finché quella orecchietta di plastica non si incastra sul padiglione. Una volta messa avete un aspetto un po' ridicolo perché sporgono questi da fari neri, ma potete saltare, muovere e fare quello che volete, rimangono fermi, quindi rimangono effettivamente stabili. Adesso faccio subito partire un po' di musica sul mio cellulare. Scusate un attimo. Alzo il volume, ci sono questi comodi comandi sul cavetto. Dovete sentirlo che il volume c'è. Adesso cosa faccio? Acqua. E se avvicino tutto al microfono, continua a funzionare. Quindi ovviamente non potete notarci in piscina, ma se sudate non vi preoccupate. Potete saltare, potete sudare. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti